Il Partito Democratico si è assunto la responsabilità di fare le riforme e ieri abbiamo ancora una volta confermato che questa legislatura ha senso soltanto se le facciamo. E quindi entro il 15 di ottobre approveremo anche la riforma del Senato, con il superamento del bicameralismo perfetto e la riduzione del numero dei parlamentari.